guarda 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 lì che cuoco Alex l'uomo tutto fare tu ridi è vero ma lo fai anche a caso ah ecco mi sembrava tu non vuoi un po' ci voleva un po' di musichetta ragazzi ma è lontana è lontana prego benvenuti grazie 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 ricco Buongiorno, buongiorno! Buon appetito! Buon appetito! Stai pronto l'ufficio di richieste? Sì! Mi dica! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!